ciao sono giusy ponzo ho 33 anni vivo a san seriero in provincia di foggia sono orgogliosamente mamma di tre splendidi bambini Sharon di 7 anni e due genetini Nathan e Christel di 5 anni lavoro nell'ambito della depurazione sono una informatrice di depuratori dell'acqua e amo tantissimo il mio lavoro grazie al mio lavoro la fortuna di viaggiare molto di conoscere posti nuovi e di vivere quotidianamente tra la gente tra le mie passioni c'è quella della decorazione e della restaurazione di mobili antichi adoro lo stile shabby chic infatti a casa mia ho molte opere fatte proprio da me tra tanti interessi c'è al primo posto quello dello spot pratico spinning da sette anni e faccio ginnastica a corpo libero poiché vivo tutti i giorni tra la gente tengo molto al mio aspetto fisico oltre al fatto che adoro l'estetica e infatti dedico molto tempo alla cura del mio corpo dei miei capelli e delle mie mani infatti proprio per questo mi sbizzarisco a curarmi le unghie e soprattutto a colorarnele di tutti i colori come dicevano i latini una mente sana sta in un corpo sano ho deciso di partecipare a miss mamma italiana perché è una manifestazione che dà l'opportunità di mettersi in gioco a qualsiasi età e dalla possibilità di incontrare altre mamme con cui confrontare le loro esperienze di vita e soprattutto perché sin da ragazza ho partecipato a moltissimi concorsi di bellezza ho lavorato prima modella e ho fatto tantissimi spot pubblicitari perché io credo una cosa che oltre ad essere mamme siamo anche delle donne ed è giusto a qualsiasi età mettersi in gioco Musica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed oggi voglio prepararvi un buonissimo piatto fatto da me, un piatto tipico della mia regione, la Puglia. Troccoli allo scoglio. Andiamo a prepararli. Buon pranzo! Buon pranzo!